In missione in Paraguay dal 1978, il sacerdote salesiano Don Giuseppe Zanardini si è distinto nell'impegno per gli ultimi, in particolare nel campo dell'educazione con gli indigeni. Dai popoli indigeni ha preso l'importanza della cura del creato e della terra. Il più importante che ci insegnano e che riassume molti elementi è questa parola, la essenzialità. L'essenziale della vita. E cos'è l'essenziale della vita? Proviamo a pensare. L'essenziale della vita è volerci bene. L'essenziale della vita è essere felici e comprendere, io l'ho compreso attraverso dalla vita con questi popoli, che uno non può essere felice da solo. Se siamo felici dobbiamo essere felici tutti. E questo io l'ho visto concretamente, come loro nel villaggio sono realmente un cuore unico, un cuore solo, dove nessuno ne soffre la fame o la sete o la povertà, perché tutti hanno quello che hanno gli altri, ossia non c'è chi ha più e chi ha meno. E questo genera una situazione di allegria e di felicità anche. Dalla Laudato Si a Glasgow, nelle scorse settimane ha tenuto una relazione a Borgossatollo, ospite della parrocchia e del locale Circolo Acli. E con allegria si condivide. Questa è una grande lezione, questa solidarietà tra le famiglie, dentro del villaggio, dove tutti si preoccupano di tutti. Anche ci insegnano l'educazione, un'educazione che è uguale per tutti, perché i maestri non sono solo quelli che sono nella scuola, sino che tutti sono maestri, tutti sono responsabili dell'educazione dei bambini dentro del villaggio. Questa è anche una grande lezione, una grande lezione. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un'altra sociale, bensì una sola complessa crisi socioambientale, che induce ognuno di noi a domandarsi quale tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo.